Dopo la presentazione ufficiale a Roma del calendario dei Carabinieri 2024, è toccato a tutti i comandi provinciali dell'Arma fare lo stesso, per far conoscere ai tanti appassionati e collezionisti questa nuova opera, che quest'anno è dedicata al Carabiniere come punto di riferimento della collettività. A Vibo Valenza è toccato al colonnello Alessandro Corda, comandante del reparto operativo, illustrare questo nuovo progetto. Il calendario di quest'anno 2024 è stato curato nella veste grafica dallo studio Pininfarina, un noto marchio del design italiano, famoso soprattutto per le autovetture. E' nella parte scritta, quindi nei testi, da Gramellini, che è comunque un giornalista e scrittore molto famoso. Ripercorrere nei 12 mesi degli eventi di cronaca, di attualità, ma anche del passato, che sono collegati tutti da un unico filo rosso, che ha il senso del dovere e la capacità di ascolto e di vicinanza alla popolazione dei Carabinieri. Quindi vengono riproposti dei fatti, a volte molto famosi, altri che sono nella quotidianità, ma che comunque hanno tutti questa caratteristica, cioè di mettere in risalto la capacità del Carabiniere, di essere vicino alla popolazione e di sapersi spendere per i cittadini. Quindi abbiamo, dal massimo esempio del dovere rappresentato dai martiri di Fiesole, ai Carabinieri che nel corso della pandemia Covid andavano a consegnare le pensioni a domicilio agli anziani, passando per salvataggio di persone in difficoltà. Quindi viene riproposto l'episodio di quella mamma che è stata salvata da una Carabiniera mentre era in procinto di gettarsi da un ponte. E' il soccorso che è stato prestato di recente anche alla popolazione alluvionata in Emilia Romagna. Quindi questo è il senso di questo calendario di quest'anno, che poi è arricchito da una prefazione che è stata scritta di pugno dal Comandante Generale e che riassume un po' le varie tematiche. Chi lo volesse come deve fare? Allora, non è in vendita al libero commercio, ma viene ordinato, il canale di vendita è quello delle caserme, quindi va necessariamente ordinato da un appartenente all'arma che poi lo può dare come regalo a richiesta. Non è comunque in vendita nelle edicole e anche nelle librerie. Grazie. Grazie. Grazie.